io c'esca buona questa qua è una tecnica mica male allora andiamo è da un po' che non faccio l'impostore ragazzi speriamo di giocarcela bene le ultime parole famose però se niki passa di qua devo stare molto attento pam niki morto subito niki muore sempre subito poverino provo ad andare su e vedere se riesco ad aggirare gli altri con il problema perché sennò che non lo fate giocare ho trovato il cadavere di nicky giu in communication di fianco a shield non ho capito chi era con potrebbe essere eco ma io sono stato io solo con pietra non mi ha ucciso però non ero completa io ho fatto da steroidi sono uscito totalmente io me puzzano ste che noia mi ha fatti terreno spesso sono i tre c'è metto anche me stessa io mi sospetterei se non fossi io però c'è non ho neanche la mente però ecco che noia e io almeno così siete tranquilli e lo faccio per voi sono da casa non lo dici tu non è la tua battuta non fare le battute agli altri mamma mia che difesa raga ottima allora sabotage vediamo se riesca a fare un sabotaggio mentre sto qua sto vicino a nando così almeno siamo sicuri di non ammazzarci a vicenda così è un bel alibi c'è che noia che sta guardando da due ore dalle camere sta maledetta c'è leo che mi segue e io e leo facciamo che me lo tengo proprio come alibi non faccio assolutamente niente io e leo me lo tengo completamente come alibi leo deve essere la persona che dirà favij è stato con me tutto il tempo e non ha fatto niente lui deve dire questo quindi devo proprio stare attento perché siamo veramente troppo attaccati ok brava cesca che è stata lei ahia ok brava beh direi che insomma che noia può essere volta dalle sedi sospettati ragazzi sono storici io e leo siamo stati vicini ma tipo allora storici l'ho segnalato io e ho incontrato solo sesca che non so se voleva uccidermi ma aveva il cooldown no io stavo andando dalla navigation alla caffetteria però io posso confermare che Lorenzo e leo erano sempre insieme però mi sembrava strano perché sembrava che cercassero cioè uno dei due cercasse di seguire l'altro no 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 io l'ho seguito e credito sta botta a me ci sto attaccato no leo mi stava appiccicato e infatti l'ho visto nelle telecamere perché si vedeva proprio che era palese che si stessero seguendo no avrebbe potuto veramente uccidermi tipo sempre allora se posso io sono sincero non ho albi però sto lasciando come la merda di tutte le tasche quindi mi manca tipo un manca una tasca quindi fate come volete però io ah io non ne ho fatta manco una per sta attaccata a me io ne ho fatte due ma poi se non mi sono messa un po' io le ho praticamente finite io sto andando adesso perché sono stati un sacco di seguiti sei proprio un miscredente ho detto che un sospetto non che sei tu Leo e Leo e Steph insieme 3,2,1 Cesca vieni qua e vabbè ma Cesca non mi dà una mano Cesca non mi dà veramente mano perché doveva stare vicino a me Cesca mannaia oh se Cesca fosse stata vicino a me avremmo aspettato il cooldown per far fuori tutti e due perché ci poteva stare sta roba raga maledizione reattore lo faccio ad aprirla ma non so come allora cosa è successo? si è chiusa la porta di dove stare guardando il fatto è questo io ero in telecamera a guardare ho visto Charlie salire per entrare nella stanza mi giro vedo Charlie entrare e steca a scompasso di fianco a me e non ho visto uscire dalla stanza io? a noi qualcuno ci ha chiuso pure dentro cioè noi eravamo io infatti raga mentre io stavo cercando di vedere chi ce l'ha chiuso lì prima del reattore che tu Charlie si è andata nella stanza stai andando correndo dentro la telecamera ok raga dai da te vi avevo detto fin dal senato di tener conto di tutti e tre Charlie è morta e tira un'accusa totalmente a rato non votate fermi chi avete votato? anch'io se raga almeno appena muoio premette emergency e votate da te via ci sta non è assolutamente vera questa cosa vai almeno così io non so almeno uno l'avete buttato fuori stef che non è sicuro almeno uno l'avete fatto no minchia veramente ma come è scritto come imparato? facciamo le mani ragazzi no ragazzi occhio via via fuori alle valle schiacciando il meeting ah no aspetta ma dove mutarmi? sta lì fermo ok guarda abbiamo vinto ragazzi forse è stato troppo stupido ok ecco perché non è che non è che facciamo il miti vai che aveva fatto rega se lo fate per te lo assicuro se lo faccio ma ci siamo due contro due dopo spero esatto aspetta spedio ragazzi il fatto è questo o sbaglio su ste non so che fine abbia fatto perché io ho visto entrare charlie ballo e non visto uscire ste ma e secondo me non troppe volte mi ha scusami guarda figati ora mi prendo la colpa mi vuole che ha perso raga un applauso sei sicuro che ho perso sono sicuro incredibili dove ci darli in charlie non è che schifo ma che alima che è lupus in favola e ritorno raga poi dovete smetterla di giocare insieme comunque ma c'è incredibile ragazzi bene ragazzi il momento sta partita me la voglio giocare proprio totalmente safe speriamo che non mi passi qualcuno vicino stef mi sta veramente seguendo e mi da fastidio stef mi sta troppo seguendo stef mi sta troppo seguendo via 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 ok per la madonna allora fermi tutti sono e non è che noia stava non è che noia mi stava seguendo stef e mi sono anche un po indosso però mentre andavo verso quel corridoio ho trovato il corridoio a dove stanno non è stef non è stef perché io l'ho con lui attaccato però no mi si può fare si può fare ma no era troppo vicino a me ok perché io ero tanto vicino a stef e stef era tanto vicino a lori e quindi capirevamo i tre ce li escludiamo stef e tu mi confermi di nikki si si era dietro di me allora non è nikki però il corpo era molto vicino c'era era verso caffetteria quindi è arrivato la caffetteria chi l'ha ucciso ok sicuro non è arrivato io stavo in ossigeno da sono sparato in ossigeno a fa la task e sono rimasto lì affinché l'avete riportato vabbè raga scripiamo io ho fatto una task dei capi sono scesa però non sono visto dire che è strano fatto non mi ricordo non ricordo i nomi delle stanze boh va bene sono quasi convinto sia cesca pietro mi sa di buono quindi no rimango con nikki vediamo dobbiamo stare vicini ragazzi perché sia sotto cesca è qua secondo me c'è che ragazzo è cesca maledetta che mi insegue cesca è cesca so che è cesca sono convinto che sia cesca da come si muove proprio la conosco la conosco è cesca è cesca e mi vuole fare fuori guarda che mi segue da due ore charlie non me la conta giusta proseguo lei admin no ma ragazzi mi cago addosso stare con osservare perché sicuramente qualcuno mi ammazza mentre osservo ok cesca step attenzione cesca seguiva step charlie è passata di la madonna che casino mi sto cagando sotto ragazzi mi sto veramente cagando sotto le tasche non le stiamo facendo le tasche in basso a sinistra in basso a sinistra è l'over engine a me a corso incontro cesca ma queste volte ma cesca non è perché era a fianco a me secondo me io non sono ragazzi ma chi stiamo votando io ho skipato io anche anche charlie non mi ha ucciso nei ovviamente avete skipato tutti va bene ragazzi secondo me io rimango sul fatto che sia cesca poi magari mi sbaglio però secondo me c'è dopo sapete cosa faccio provo ad accusarla come come l'accusano di solito e vendo se si pia male se si pia male allora non è cesca se non è c'è non è nichi poteva uccidermi non è nichi poteva veramente uccidermi step era step l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto la step era step era step era step no non sapeva dovevo fare report nessuno ha sospettato di me mezza volta comunque vero ma quindi charlie ritura prima di la prima in assoluto avevo la prima in assoluto sì che non volevo uccidere ho proprio misclicato ciao 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 Grazie a tutti